Vi ringrazio Stefano Burbi, il nostro maestro, compositore, musicale ovviamente, ma stasera non in questa veste, ma nella veste di amico di Herman Naccardi, di lunga data, che è qui a presentarci direttamente da Milano con la figlia Lucrezia, che fa delle firme meravigliose, pur non essendo ancora in età scolare, quindi è un firmacopio aggiunto, a presentare questo libro, io sono mia figlia, quindi lascio la parola a Stefano perché presenti al meglio questo libro, che me l'ha consigliato, io ho subito accettato questo invito, ho fatto e spero che stasera abbia modo di valutare anche i contenuti di questo scritto, quindi mi fa piacere, poi abbiamo più o meno stabilito che faremo una presentazione di un altro libro, inizio anno nuovo, con Ermanno che è anche editore, oltre che autore, che in questo libro è autore, ma in quest'altro caso è editore. Se vuol fare alla fine del video un accenno al libro che è uscito e che potremmo pubblicare, potremmo scusate, presentare a inizio anno, insomma, volentieri. Grazie Stefano per averci segnalato questa cosa. Grazie a te, caro Mauro, grazie a Emilio Salveni per l'ospitalità e grazie a Ermanno che è venuto da Milano, qui nella nostra città, a Firenze, per presentare questo libro che io ritengo semplicemente commovente, mi è piaciuto molto leggerlo e sono molto felice di presentarlo. Non farmi piangere da subito, perché comunque devo reggere la lacrima facile, dopo una certa età si diventa più vecchio io. Ogni tanto ricordo anche i vecchi presidenti della Repubblica che si commuoveva ogni cosa. Allora, innanzitutto, in genere, quando si parla di un libro, ci si chiede chi è l'autore, perché ha scritto questo libro, quindi chi è Ermanno Accardi? La prima domanda che si fa, lo presentiamo in sintesi, ci sarebbero moltissime cose da dire di Ermanno, ma Ermanno Accardi ha 63 anni in età e funzionale alla narrazione, come capiremo dopo, siciliano di nascita, però milanese di adozione. È laureato in scienze politiche e giornalista professionista. È importante sottolineare le radici di Ermanno, perché come diceva il personaggio della Santa nel film La grande bellezza di Sorrentino, le radici sono importanti. E nel caso di Ermanno lo sono ancora di più, perché la sicilianità che lui ha è un valore aggiunto, come vedremo anche nel corso di questo incontro, anche se l'autore ama appassionatamente Milano, questa città di adozione, e Milano, sono parole sue, è femmina. Quindi in oltre 38 anni di professione, Ermanno si è occupato di tante cose, si è occupato come giornalista di esteri, di cronaca, di sport, di musica, di cultura, di spettacolo, di costume, di televisione, sia a livello locale che a livello nazionale. Non soltanto ha lavorato per Repubblica TV, ma anche per Mediaset, MTV, All Music, e fra i molti impegni di giornalista, di scrittore, di presentatore e organizzatore di eventi di comunicazione, ma soprattutto direi come padre innamorato pazzo di sua figlia, perché questo è il tema del libro del resto, ha aperto anche il blog Milano Meravigliosa che prende il nome da uno dei diversi libri che lui ha scritto finora e nella maggior parte dei casi hanno la sua amatissima città come protagonista principale o comunque come sfondo dei suoi racconti. Quindi è un ottimo ambasciatore anche di Milano. Quindi ora siamo soddisfatti delle note biografica dell'autore, in estrema sintesi, e ora passiamo a capire perché il libro si intitola Io sono mia figlia, bellissimo titolo, molto importante. Beh, Ermanno ha avuto una figlia quando aveva 57 anni. Ora questa meravigliosa bambina che si chiama Lucrezia è là, eccola là, e lei è la dante causa, diciamo, di questo incontro, di questo libro. E allora l'ha avuta quando aveva 57 anni, ora lei ha 6 anni, e quindi Ermanno si è sentito, diciamo, investito in una grande responsabilità in un'età, diciamo, non usuale, diciamo, perché in genere uno diventa padre prima. Però, Ermanno, non pensare di essere un fenomeno, eh? Perché io ti posso dire che non sei il padre più vecchio del mondo, strano ma vero, ho fatto delle ricerche, ho scoperto che ti ha battuto Ramit Raghav, classe 1916, indiano, ex wrestler, e ha avuto il primo figlio a 94 anni. Quindi ce n'hai di tempo ancora Angela, la moglie, e dove è la moglie? Eccola, eccola là. Angela, ancora ce n'hai da lavorare. E' un'ultima di più recenti, Mick Jagger. Mick Jagger, sì. Aspetta, arriviamo, arriviamo, arriviamo. Poi, beh, insomma, chi batte tutti è Matusalemme, perché aveva 177, 187 anni, quando generò Lamech, e lui morì a 969 anni. Sarebbe carino, io non... Sarebbe che gli trovo interessante. E quindi, insomma, per dire, no? E poi è un tema questo, che è un po', diciamo la verità, in questo momento fuori moda, perché va, ed è purtroppo vero, una delle piaghe, diciamo, che è sempre stata, è la violenza che c'è su molte donne, questo purtroppo è un dato che non si può negare. Però, attenzione, per fortuna, stasera vediamo che non tutti gli uomini sono così. Sì, va bene, e quindi questa è una cosa importante. È importante. E poi si parla, finalmente, di una paternità bella, felice. Ovviamente non potrebbe essere altrimenti. E oltretutto c'è stato anche il concorso di tua moglie, della madre, di Angela. Soprattutto. Di tutti e due. Parleremo del nulla. Sì, esatto. Di tutti e due. Quindi, ecco, diciamo le cose come stanno. E' un incontro felice su un tema felice che sembra essere fuori moda, perché la felicità sembra essere un po' fuori moda, no, dei rapporti di coppia. Non è così, perché ci sono coppie felici, per fortuna, ci sono uomini buoni, e quindi cerchiamo di essere ottimisti e cerchiamo di vedere oggi l'aspetto buono, l'aspetto bello. Ed è questa una delle ragioni per cui sono felice di usare la mia veste di ex professore di lettere per presentare questo libro. Allora, Ermanno, il più bel lavoro, diciamo la verità, se io lo chiedessi a lui, non ti faccio rispondere ancora, non ti do ancora la parola, so io cosa mi direste. Fare il padre, fare il papà. Ed è giusto. Pensate che lui è giornalista, è scrittore, ma lui voleva fare anche il calciatore nel Milan, e fece un provino, fece un provino, e gli andò bene. Però, prese il morbillo, e purtroppo, doveva... La mamma pose il veto. Esatto, quindi non ci fu, poi, di... No, non mi impedì di giocare, poi fino a 44 anni ha giocato a calciatore. Sì, sì, però con il Milan, però... Comunque con il Milan questo. Però, qualche anno più tardi, Ermanno riprovò col Milan, però non aveva più la voglia di prima, e il provino non andò bene, quindi, dovette... Giocò lo stesso a calcio, lui è bravo di giocare a calciatore, però dovette rinunciare. Però il suo sogno è questo. Ma credo che il suo sogno più grande sia stato realizzato a 57 anni quando è nata la Grecia. E di nuovo, il punto più alto della carriera, io credo, di... Oltre questo... Non si può andare. È difficile, voglio dire, non si può andare. Quindi vi presento adesso in estrema sintesi il libro. Il libro, da un punto di vista letterario, perché ci vuole anche un minimo di inquadratura letteraria e storica, è un libro direi, autobiografico. È una specie di diario autobiografico. Però non è l'autobiografia compiaciuta dello scrittore che dice ora, ecco la mia vita, ve la racconto, tenetevela, ecco qua, perché... No. È un dialogo commovente, bellissimo, di un padre verso sua figlia, perché e questo le devo tirare le orecchie, è una paura che non deve avere perché Ermanno teme che la differenza di età che 57 anni non sono poche, però al giorno d'oggi, teme che questa differenza di età gli impedisca di vedere crescere la mia figlia di vederla diciamo realizzata nei suoi traguardi. Io ti posso dire che non devi avere questa paura perché al giorno d'oggi per fortuna l'aspettativa della vita è aumentata, è aumentata molto, anzi proprio l'altro giorno, pensavo proprio a te, pare che i 60 anni di oggi, i 65 anni di oggi addirittura sono come i 40 anni o 50 anni di prima quindi deve passarne ancora di acqua sotto i ponti per cui l'età è una cosa ormai relativa, molto relativa. E io direi di vedere il libro proprio come una testimonianza dell'amore in generale di un padre verso la figlia e Ermanno cerca di farsi conoscere da sua figlia e di conseguenza si fa conoscere anche da noi. Ermanno è nato a Cittanissetta nel 1960 però ora è milanese, si sente milanese perché è arrivato nel 62 dopo a due anni medicamente esatto è arrivato a Milano quindi praticamente lui ci descrive Milano in maniera azzeccatissima e questo lo voglio leggere perché è un passo che mi è piaciuto molto sì Milano non ti aggredisce visivamente non ti molesta in continuazione esibendo le sue meraviglie storiche e artistiche aggiungo come Firenze un po' di campanismo ci vuole perdonatemi perché non si mostra facilmente agli occhi distratti ma un'anima vera generosa che si svela soltanto a chi la sa osservare no Milano non va incontro a nessuno chi la vuole ammirare la deve andare a cercare come ho fatto io come faccio ancora oggi perché ce l'ho nel cuore e nell'anima mia cara come Milano è sempre stata romantica accogliente e disponibile come spero lo sarà sempre con te si rivolge ovviamente a Lucrezia alla figlia io la vedo bella bellissima come il primo giorno che l'ho incontrata come quando sei nata tu in quella tiepida mattina di ottobre sì ci sono dei risvolti romantici parlando alla città perché Milano è femmina e Ermanno quindi la come dire la corteggia senza ingelosire la moglie che ovviamente è un'altra cosa è un altro tipo di amore quindi Angela deve stare è un'altra che è un'altra di amese acquisita esatto però Ermanno nel corso della sua narrazione non manca di darci un riferimento alle sue radici prima geografiche perché le radici sono importanti come ho detto prima e poi della famiglia di origine ed è un accenno anche al mistero della morte che in modo purtroppo è sempre presente nel corso della narrazione sempre riferendosi naturalmente parla Lucrezia tu i nonni non li hai conosciuti nel nonno Giuseppe e nonna Lidia i miei genitori nel nonna Marianne e il nonno Antonio i genitori di mamma li hai cercati tutti parecchio anche perché avevi gli altri bambini nella scuola materna circondati appunto dall'affetto dei nonni e mi chiedevi papà perché io non ho i nonni io dovevo spiegarti che erano volati in cielo e ora ti guardano dall'assunto purtroppo Ermanno l'autore ha visto la morte da vicino lui ha perso il fratello Ercole nel 2007 è stato un passo molto duro da leggere e vi confesso che quando l'ho letto mi sono commosso e credo che vi comodoverete anche voi quando adesso ve lo leggerò si tratta di mio fratello Ercole tuo zio tesoro quello che non hai conosciuto sudo freddo riattacco giro la bici e torno a casa il più velocemente possibile per prendere la macchina e per cittadarmi là arrivo mi arrabbio un po' perché non trovo parcheggio e alla fine riesco ad entrare al pronto soccorso lui era stato avvertito che c'era stata questa tragedia mi viene incontro un medico mi dice che hanno fatto il possibile che ha avuto due arresti cardiaci al primo l'hanno ripreso sul secondo però non c'è stato nulla da fare mi dicono che posso scendere in camera mortuaria apro la porta con il cartello che porta la scritta Ercole a Cardi 15 ottobre 2007 lui è lì un lenzuolo bianco lo copre completamente povero e sfortunato fratellone mio due lacrimoni mi solcano il viso mentre lo scopro gli accarezzo la fronte ancora un po' più di dina si era da poco rasato a zero come me perché proprio come i miei i suoi capelli non erano più belli e fulti come un tempo lo guardo con tutto l'amore con cui si può guardare un fratello appena morto e gli parlo a bassa voce come non disturbare il suo sonno poi la mia mano a sinistra si ferma all'altezza del cuore preme con dolcezza sull'enzuolo bianco il suo non batte più e a me sembra che anche il mio si sia fermato senti un rumore assordante del silenzio come solo il silenzio della morte sa essere assordante poche parole ma riescono a colpire nel segno il cuore veramente e si sente come che Ermanno abbia il rispetto della morte il timore ma lo vedremo anche dopo si sente la speranza ovviamente che c'è oltre anche perché Ermanno ci dice che è nato tre volte il 24 marzo del 1960 poi ha avuto due incontri ravvicinati che per fortuna però non si sono realizzati davvero con la morte la sera del 15 novembre di 1997 quando ha subito un grave incidente stradale e l'8 del febbraio del 2021 quando è entrato in ospedale e poi l'hanno operato al cuore e prima di entrare in sala operatoria prima dell'anestesia ha detto vi conviene farmi tornare vivo dopo l'operazione perché sono il padre di una bambina di tre anni la mia meravigliosa creatura potrebbe soffrire e voi questo non lo permetterete vero? questa è una cosa che anche questo mi ha colpito moltissimo però nonostante queste esperienze diciamo negative ci dice anche delle parole che sono molto attuali oggi non posso vivere dice il banno la vita come una perenne emergenza non ho più l'età né la forza non ho più energia da sprecare quella poca che mi è rimasta la devo la voglio destinare soprattutto a te perché il tempo scorre e io non ho più tempo da perdere ne ho già perso e buttato via abbastanza anche per cose che pensavo davvero fossero importanti e oggi sento che non lo sono più e questa è un'altra cosa che commuove che colpisce vedete quanti di voi hanno perso i genitori e li rimpiangono credo che chi li ha persi tutti perché tutti scopriamo i nostri genitori dopo qui invece c'è una visione diversa è Ermanno che fa in modo tale che la figlia li scopra subito lui e lo vuole dare una testimonianza perché teme ripeto timore infondato che la figlia lo possa perdere prima di quanto si possa pensare quindi vuole che la figlia abbia tutti gli elementi perché lei lo possa ricordare soprattutto possa stare vicino anche dopo infatti lui dice un giorno forse vedrai in me soltanto un uomo non più supereroe che tutto può e che scaccia il lupo di notte in tutte le stanze piombate nelle tenebre un giorno forse scoprirai quante lacrime ho versato senza farmi vedere da te regalandoti soltanto sorrisi un giorno forse scoprirai che non so tutto anche se so molto che non ho risposte per tutte le domande che ho imparato da te più di quanto ti abbia insegnato io ritengo bellissima anche questa cosa e lui continua dicendo ovviamente lui spera di vivere a lungo addirittura fino a 108 anni come come Gillo Dorfless ma perché no non poniamo limiti alla providenza e dice e dice che spera ovviamente di di essere sempre vicino la speranza dice adesso testualmente è davvero l'ultima a morire insieme ai sogni non realizzati anche se da quando c'è mia figlia dice i sogni mi sembrerai già realizzati tutti e poi concludendo letture dice io non so quale sia e se ci sia un punto d'incontro fra il proteggerti e lasciarti muovere libera nei limiti dei tuoi cinque anni perché quando l'hai scritto ancora aveva cinque anni tra amarti in maniera incondizionata e non soffocarti fra educarti e non influenzarti troppo e qui continua lo leggerete poi vi consiglio di averlo continua dicendo tutte le cose che lui non sa per educare al meglio la figlia per essere veramente vicino ma quello che sa è che lui vive per sua figlia vive in funzione di sua figlia e ogni sua scelta personale e professionale dalla più semplice e banale alla più difficile e importante è rivolta solo ed esclusivamente a lei è subordinata al suo benessere alla sua serenità alla sua felicità è giusto è sbagliato non lo so e non mi importa e hai perfettamente ragione vedete questo è un libro godibilissimo si legge veramente come si beve non un bicchier d'acqua ma un buon bicchier di vino che lo si gusta e rimane un gusto buono ed è un libro che serve come una buona bottiglia di vino che si tira fuori nei momenti in cui magari fa buio fuori e fa anche buio nel nostro cuore perché è un libro che consola perché è un libro rivolto verso il futuro un padre una figlia un genitore è il prodotto dell'amore di un uomo e di una donna che generano una vita che è il nostro futuro quindi è una cosa meravigliosa e possiamo soltanto dire a Lucrezia sei fortunata che hai due genitori così Ermanno ed Angela che nel libro aleggia sempre ovviamente la moglie eccetera questo grande amore ed è una cosa bellissima che una figlia possa essere protagonista non solo della vita dei genitori ma protagonista anche di un libro di un'opera letteraria e per finire vorrei citarvi alcuni aforismi che ho trovato proprio oggi che mi sono piaciuti che parlano della paternità i 15 minuti di celebrità più belli per un uomo sono quelli in cui diventi padre e durano una vita intera questo è un anonimo su Twitter Albert Hoffman si chiama su Twitter un anonimo un padre tiene la mano di suo figlio per un breve periodo ma tiene il suo cuore per sempre madre Teresa invece adesso cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo vai a casa e ama la tua famiglia e questo invece è un Reed Markham che dice essere un buon padre è come farsi la barba non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi devi farlo di nuovo domani il più grande regalo che un padre può fare ai suoi figli è amare sua madre questo lo dice Anagne Garcia Untalan e per finire una cosa che voglio dire io il padre è forse l'unico che dice a suo figlio in questo caso a sua figlia che è felice se diventerà più grande di lui se avrà più successo di lui se sarà più bello di lui nel caso del maschio se sarà più ricco di lui perché un padre non può essere geloso di un figlio ma può soltanto desiderare il meglio per il figlio in questo caso la figlia perché essere padre come essere madre è forse l'atto di più di più grande di generosità ed è una cosa bella che si può fare per il genere umano per cui grazie Ermano di aver scritto questo libro grazie Ermano di essere qui stasera ed averci dato un bellissimo frutto del vostro amore Lucrezia intanto grazie veramente a tutti voi grazie Stefano grazie a Firenze grazie a Mauro questa città io ho moltissimi ricordi tutti molto belli non ci venivo da moltissimi anni ho ritrovato già solo entrando qui respirando l'ore della carta del libro proprio ricordi antichi emozioni antiche di giorni molto belli vissuti qua a Firenze di aneddoti ne avrei moltissimi da raccontare fiorentini proprio per cui io qua avrei dovuto fare frequentare la scuola di guerra aerea dell'aeronautica militare perché facevo ancora la maturità avevo 19 anni quando poi finita la maturità mi sono iscritto all'università mio padre mi diceva visto che io volevo fare militare subito mi diceva no sai papà faccio militare subito perché comunque siamo una famiglia che sta bene non è che scuotiamo l'albero avendo giù i soldi quindi all'epoca lavorare e studiare era abbastanza frequente normale quindi diciamo beh però almeno togliamo questa dicitura nel curriculum obblighi militari non ancora assolti assolviamoli a vent'anni ci pensiamo più diciamo no fai l'ufficiale perché almeno poi sei stipendiato guadagni bene insomma fai tre mesi in più che ha un ragazzo di vent'anni di tre mesi in più militare insomma già e poi ti mando dal mio amico che è un suo conterraneo come dicevo io conterroneo all'epoca generale Basilio Cottone che era all'epoca comandante della scuola di guerra e che così ti tiene un po' non è che tu abbia tanto bisogno però almeno ti tira nei binari per un po' guadagni un po' di soldini poi invece feci la scelta di fare sì sempre la Vire ma poi a Milano perché poi stando a Milano avevo la possibilità di fare molte altre cose compresi gli esami all'università a cui mi presentavo da buon paravento per non dire altro chiaramente indivisa con l'arma azzurra poi ero a Milano all'ufficio stampa era quello che volevo fare quindi non mi è sembrato neanche vero quindi la bellezza di Firenze perché poi io ci tornavo a Firenze e li vedevo gli allievi che uscivano in libera uscita e all'epoca avevo la chioma fluente li vedevo con questi capelli tagliati cortissimi e un po' mi sorridevo all'idea di questa cosa e quindi tanto grazie veramente mi fa molto piacere poi la seconda cosa che vi voglio dire è che io è vero tutto quello che ha detto Stefano confermo parola per parola ovviamente e faccio e ho sempre organizzato eventi incontri e ho partecipato e ho invitato ad incontri eventi dibattiti di vario tipo e laddove è stato possibile io ho sempre preso la parola per primo soprattutto perché c'erano dei grandi esperti dopodiché magari ho moderato perché prendere la parola dopo qualcuno che ha detto cose interessanti stimolanti commoventi come ha fatto Stefano adesso che ha detto delle cose straordinarie cioè parlare dopo insomma delle persone di questa levatura è un po' come non so faccio un esempio come per Gigi D'Alessio cantare dopo Frenzina è la stessa cosa non è anche piacere ma diventa complicato dire qualcosa di interessante di intelligente dopo aver sentito questi soggetti e allora alla fine io mi offro dirò giusto due cose però poi mi offro all'interazione col pubblico che è la cosa più bella perché voi sapete che oggi le presentazioni dei libri questa è una presentazione di tipo classico però normalmente le presentazioni dei libri o qualsiasi altro evento si fa sempre con il prosecco in mano almeno Milano funziona così prosecco da una parte e musica dall'altra dopodiché si può parlare di qualsiasi cosa quindi musica dal vivo musica diffusa ma le classiche presentazioni dove ci sono due persone come nel nostro caso qualcuno che parla e l'altro che risponde e deve anche tenere a freno la lingua perché l'entusiasmo è quello di raccontare tutto il libro dopodiché il libro non lo vendi più e allora non è servito a niente questo gianchierato e per cui c'è questa fregola dopodiché al pubblico vengono concessi 5 minuti 10 minuti alla fine domande 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 c'è qualche coraggioso calza la mano grazie e arrivederci qualcuno compra il libro per stanchezza perché spesso e volentieri trascinato il solito succede ai maschietti trascinati dalle mogli dopo una giornata di lavoro io le vedo a Milano queste cose in continuazione non so a Firenze come funzioni però presumo siamo più o meno sulle stesse falserie questi uomini che vorrebbero andare a casa farsi la doccia mettersi sul divano come diceva il milanese imbruttito divanata facile divanata facile e invece vengono trascinati in queste presentazioni dopodiché sono mortifere veramente e lui dice guarda dammi sto libro cioè fammi pagare sto scotto non vedo l'ora di andare a casa vado a casa e poi a casa scopro che magari il libro è anche piacevole ma dopo siccome all'inizio magari era presentato in maniera un pochino più paludata allora poi magari allora tendenzialmente si cerca di lisciare un po' no? in questi casi e a Milano funziona così appunto l'aperitivo funziona la musica e tante altre cose che poco hanno a che vedere magari con l'argomento del libro perché poi non si legge a casa e credo che il rapporto con il lettore sia bellissimo proprio perché è individuale questo mettersi a nudo come ha detto Stefano prima questo un po' spogliarsi essere mettersi veramente nudo davanti agli altri allora possono leggerti in tanti si spera sempre che siano tanti a leggerti evidentemente dal punto di vista commerciale però poi nel rapporto con il lettore sei da solo sei tu e il lettore la lettrice e nessun altro e il lettore ti legge dappertutto ti legge in bagno in camera da letto sotto l'ombrellone sul treno in tutte le situazioni possibili e immaginabili quindi con grande intimità c'è un rapporto intimo con il lettore quindi tante volte ci si spoglia in questo caso dici sei spogliato davanti a tante persone non lo so io mi sono spogliato davanti a Laura Carmela Stefano Cinzia moltissime altre persone Paolo perché è stato un rapporto a due in questo senso ci siamo guardati in faccia ci siamo raccontati queste cose come due amici intimi o che lo diventano alla luce di quello che ci stiamo dicendo quello che posso aggiungere rispetto a quello che ha detto Stefano due tre cose che mi sono appuntato mentalmente la prima è che io ho sentito l'urgenza di scrivere questo libro perché è una paternità tardiva oggettivamente parlando è stato proprio un bisogno fortissimo è stato quasi come una lunga seduta psicoanalitica per me scritto anche abbastanza in fretta nel giro di pochi mesi raccogliendo anche altre cose che io avevo scritto nel tempo che dovevano servire a mia figlia per dire guarda speriamo di averne moltissimo di tempo senza porci troppi limiti io ho citato Gillo Dorfles i cento anni centotto anni me lo auguro anch'io e la vedo dura però me lo auguro anch'io spero che mi vengano a intervistare come giornalista più vecchio d'Italia con la faccia ridotta come quella di uno sciarpei con tutte le pieghe gli occhi due fessure la voce sempre più bassa più baritonale l'immagine non più dal giornalista televisivo perché poi quando si imbossisce nel tempo si passa dietro le retrovie io faccio adesso quello che avevo dovuto fare prima cioè la radio faccio ancora la radio ma dietro la radio è vero che oggi la radio è anche in streaming e web e dappertutto però tendenzialmente la radio è la radio quindi non ti si vede si sente solo la voce e quindi possiamo andare avanti finché questa voce ci sarà noi ce l'auguriamo ora però l'urgenza nasce da questo dal fatto che sì è vero quello che dice Stefano si è allungata la vita ci sono delle aspettative più lunghe questo in linea generale ancora oggi però ci meravigliamo se un collega come Luca Goldoni muore a 95 anni e già dire collegami lo dico con con molta con molta timidezza perché ho questo rispetto sacrale per i colleghi più giovani dicevo prima a una collega Manuela non so se se sia la sindrome del discepolo però comunque anche a 63 anni ancora quando incontro colleghi più grandi di me io sono ancora deferente da questo punto di vista però molto più onestamente io in questi anni posso parlare per le mie esperienze personali diciamo che il grosso in termini quantitativi delle persone che io ho perso dei 15 e non soltanto mio fratello che era molto più grande di me aveva 14 anni più di me oggi ne avrebbe 77 non mi dispiacerebbe affatto averlo qua direi visto che è stato fratello che era un secondo papà per l'età per differenza di età parliamo della differenza di età di allora dove si notava di più un 14enne con un fratello di 28 anni che era già un uomo 28-30 anni era fisicamente già un uomo era il classico fumenda milanese si vedeva già bello grande con la pancia grizzolato oggi i trentenni ha 28 anni 30 anni era già bello oggi i trentenni sono più o meno dei ragazzotti che stanno ancora in casa tendenzialmente anche fisicamente parlando e però io quelli che ho visto andare via erano sempre più o meno nel range compreso tra i 50 e i 70 e i 75 poi per carità ci tocchiamo ci grattiamo facciamo le corna facciamo tutto quello che vogliamo me lo auguro ecco io ho anche la fortuna di avere diversi amici medici che hanno condividono con me l'insana passione per la scrittura quindi non fanno i giornalisti ma fanno i medici scrivono tanto scrivono tanto in molti libri abbiamo scritto delle antologie insieme ai racconti milanesi molto divertente hanno una bella penna si vede una bella tastiera ormai si può dire più che una bella penna la tastiera non potrebbero fare i giornalisti sono due cose completamente diverse sebbene affini per alcune cose ma sono due mondi diversi quindi quello è un mestiere una professione che non c'entra niente con la scrittura secondo me e la fortuna di averli e di essere intimi perché quando un amico medico ti fa la coloscopia e ti controlla la prostata possiamo dire che siamo intimi no? possiamo dire io e Armando lo conosco molto bene e quindi e che non ti sfonda l'intestino bravo esattamente più che non esagera sempre con delicatezza sempre con delicatezza amici fino a certi quasi amici quasi amici quasi amici no? come diceva il titolo di quel bel film non amici ma intimi sicuramente ma intimi sicuramente intimi sicuramente e ricordo un altro chiuso neurologo 74 anni milanese mi diceva senti Armando tendenzialmente hai ragione da questo punto di vista abbastanza pragmatico e mi hai 63 qualche ciacchetta ma niente di che facciamo un'altra ventina e mi hai detto va bene quanti sono 83 tua figlia a quel tempo fa 26 puoi anche chiudere gli occhi smettila di rompere le scale questo era un po' modo per sdramatizzare però vuoto per pieno non diceva tante diceva anche delle grandi verità in mezzo a quelle righe ora poi ripeto noi e non parlo di plurali maestrati noi ci auguriamo tutti evidentemente di di vivere più a lungo possibile e voi pensate in questa situazione di paternità tardiva cosa io posso pensare vivendo in perenne equilibrio tra questa felicità pazzesca da rincoglionimento senile di un padre con la figlia femmina una roba devastante devastante e dall'altra l'angoscia anche di un banalissimo raffreddore ma l'angoscia non per te perché tu dici beh nessuno se ne vuole andare però io anche a 63 anni due o tre cosine le ho fatte voglio dire no se proprio proprio devo vabbè però pensi a lei e se voi pensate che questi sei anni sono stati complicati per tante ragioni bellissimi ma ovviamente altrettanto complicati perché più alzi il livello della qualità e più il prezzo sale di tutte le cose lo sapete e ci sono stati anche due anni di pandemia per non farci mancare niente quindi vi lascio immaginare un raffreddore in quell'epoca che cos'era un colpo di tosse in mezzo alle persone che ti guardavano già storto solo per un colpo di tosse gli spiegavi che era reflusso gastroesofageo poco era importante a quell'epoca eravamo effettivamente ossessionati a torto e a ragione da questa situazione quindi è stato complicato viverla in questo modo è stata difficile veramente difficile bellissima e difficile e però e però ci deve essere tanta voglia tanta energia che lei dà tanto entusiasmo nei confronti della vita perché se tu non guardassi la vita con fiducia se noi guardassimo la vita come la guardiamo spesso e volentieri ce la raccontiamo io e Stefano neanche con cinismo perché poi alla fine il cinismo spesso e volentieri è l'ultima spiaggia dei romantici si rifugiano lì e nella nostalgia come diceva Jeff Gambardella nella grande bellezza diceva cosa avete contro la nostalgia è l'unico rifugio sicuro che abbiamo contro la diffidenza di questi tempi ebbene io non ho neanche questo perché non posso essere diffidente io per mia figlia devo immaginare una vita sicuramente migliore della realtà che noi vediamo tutti i giorni almeno quella che vediamo noi nei paesi cosiddetti civili civilizzati e quindi augurarmi questo quindi l'essere comunque sempre fiducioso ottimista perché poi alla fine la tua natura è questa è ovvio che però quando arriva un evento di questo tipo ti fa pensare molto più modestamente diceva anche Lorenzo Cherubini Giovanotti dice io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo cioè essere positivo è una cosa essere pirla come dicono a Milano è un'altra quindi va bene la positività ma con i piedi per terra se possibile ecco questo è un po' il quadro e a mia figlia in questo lasso di tempo ha detto guarda quello che avevo da dirti in sintesi è questo come assunto vorrei dirti molto altro e mi auguro che tu possa leggerlo insieme a me o anche non insieme a me con una consapevolezza diversa adesso sei in prima elementare imparerai a leggere lo leggerai ma non lo comprenderai tutto anche perché il libro è rivolto anche ai lettori perché altrimenti sarebbe stata una lettera da mettere in un cassetto della scrivania alla figlia e dire questa è tua e quindi non darlo alle stampe e distribuirlo nelle librerie perché è ovviamente dedicato anche ai lettori c'è anche proprio un capitolo specifico dedicato ai lettori e quindi questo quello che avevo da dirti poi avrai evidentemente la consapevolezza magari dell'adolescenza e comincerai a a capire forse nel bene e nel mare che era tuo padre perché tuo padre te lo racconterà probabilmente qualcuno a partire dalla mamma ma sarà comunque soggettiva sarà un'interpretazione soggettiva del papà del papà del collega dell'amico di quello che volete voi a quel punto dico posso dire anch'io qualcosa di me stesso magari sì allora questo è quello che vi dice papà e poi vediamo poi se ci sono dei punti oscuri parliamo ancora lungo dopodiché questo era quello che vi sentivo di dire a lei e di dovere a voi visto che siete presenti qui e anche come eventuali lettori in questo libro grazie se fosse stato maschio lo stesso però io ho pregato che fosse femmina ho pregato io che sono un laico per quanto cristiano cattolico con tutti i sentimenti scusate con tutti i sacramenti a parte uno però ho pregato che fosse femmina per tutta una serie di ragioni intanto in maniera molto egoistica perché le femmine sono molto del papà e lei è rimassima e a me questa cosa piaceva tantissimo io ho visto mia sorella impazzire per mio padre anch'io sono impazzito per mio padre ed essendo l'ultimo ero anomalo in questa cosa non ero molto mammone ero molto papone perché anche lui era un papà vecchio perché nella Sicilia degli anni 60 mentre nel mondo io ero il terzo quindi l'ultimo con distanza dai fratelli un uomo di 41 anni e una donna di 36 nella Sicilia degli anni 60 erano due vecchi poi ce la possiamo raccontare finché vogliamo erano due vecchi e quindi io già lo vedevo sempre con questo rispetto questa soggezione insomma i vaffa non volavano facilmente anzi non volavano affatto e qualche volta c'era magari un'intemperanza c'era subito la richiesta di scuse a mamma e papà perché non perché bastasse uno sguardo no loro ormai avevano età per cui ero così stanchi io avrei potuto fare qualsiasi cosa e quindi ormai ero l'ultimo per cui diciamo che è andata bene da questo punto è femmina perché la differenza di età tra femmina e maschio tendenzialmente a parità di età non c'è storia non c'è partita loro sono molto più grandi crescono prima e hanno un attaccamento un rapporto diverso con i genitori poi tanto anche egoisticamente perché il nemico dichiarato non sono io non dovrei essere io di solito è lo stesso sesso soprattutto nell'adolescenza in questo caso è la mamma se già adesso tutti i giorni in una guerra si amano si baciano si litigano si azzuffano in continuazione ma il nemico dichiarato è il modello da battere anche se è un modello straordinario è il tuo stesso sesso tendenzialmente per cui io mi chiamo fuori quello che viene richiesto all'altro sesso è di essere presente non ha importanza bello, brutto, stupido intelligente ricco o povero l'importante è che tu ci sia se non ci sei comincia a non esserci mi girano le scatole quindi è vero che in amor vince chi fugge spesso vediamo che molti genitori non ci sono più perché hanno divorziato per altre ragioni li vedo un poco e quindi c'è questa rabbia da un lato magari e questa rincorsa per questo genitore che non c'è per cui quando lo vedo non solo lo spremo economicamente parlando ma perché ce l'ho poco a disposizione magari tutti i giorni mi rendo poco conto di quanto sia importante in realtà non è vero è vero fino a certo punto e poi sono mille altri motivi l'aspetto fisico dell'energia fisica voi sapete che a quest'età quando sei giovane hai grandissima energia fisica e ti manca tutto il resto con cui sei in concorrenza con il lavoro con mille altre cose con il semplice piacere di andare a teatro di andare a sentire Stefano di andare a sentire che misere stasera non posso perché non c'è la nonna non c'è la babysitter io ho un'età in cui queste cose non le provo più per cui non perché ho finito di andare a teatro al cinema o di vivere ma non me ne può fregare di meno nel senso che se c'è questa possibilità si fa se no io me ne sto a casa con mia figlia a guardare i cartoni animali che mi diverto decisamente di più e spremo tutto quello che può uscire da lì e l'aspetto proprio della mancanza della forza fisica perché a questa età hai tutta l'esperienza di questo mondo anche se non ce l'hai da padre magari ma sei un uomo che comunque... femmina è più facile che gestire un maschio? in linea di massima penso di sì fisicamente io sui compagni di scuola non ho mai neanche provato a prenderli in braccio perché mi verrebbe l'ernia del disco pesano il doppio di lei e io un maschio tutto testosterone per casa che vuole solo giocare a pallone io provo anche a giocare a pallone ma mi avrebbe spolpato credo nel giro di 15 giorni non di 6 anni a me è piaciuto già lo so io alla mia età voi dovete sempre si contestualizzate voi immaginate l'età ha capito? quindi per quanto uno possa sentirsi in forma si confronta con altri coetanei e dice va bene come diceva Oscar Wilde se mi guardo allo specchio mi detesto ma se mi confronto le cose sono diverse però fisicamente l'oretta per quanto mi faccia pezzi ancora adesso 16 kg di bambina ce l'ho perennemente sulle spalle quando mi dicono fare qualche attività fisica, sportiva mi fanno sorridere la faccio tutti i giorni e non potrei fare diversamente perché quello mi viene richiesto e io nei limiti delle mie possibilità anche se mi chiede le contorsioni da maestro di yoga che io non avrei potuto fare nemmeno in condizioni diverse anche senza avere una figlia figuriamoci come una figlia e che quindi l'unica cosa che io sento che mi manca è proprio questo la forza fisica tutto il resto c'è consapevolezza esperienza c'è pazienza che mia moglie che per quanto non sia più una ragazzina ha comunque 9 anni che sono parenti 10 di 10 meno di me che dice l'età ma no si deve dire l'età come no e come no è bene prima c'è leggera per messo sì no ma no questo è un siparietto come facciamo spesso siamo in un'altra epoca in cui anzi di solito si manifesta l'età per dire guarda come li porto bene per dire io devo sempre mi voglio e comunque più giovane di me ma mi legge la targa quindi mi beve non è molto e lei dice sì io ti leggo la targa ma mi devo mettere gli occhiali comunque si la vedi in questo momento la vedi lei per esempio che pure sempre ha una mia esperienza sotto mille profili ha meno pazienza di me perché l'addestramento militare è suo non è mio è lei che deve dire 20, 30, 40 no al giorno che però per effetto dell'età diciamo non più proprio da ragazzina si trasformano in sì per stanchezza a differenza di quello che succede al papà che già sì da subito per 20, 30, 40 volte tranne un paio di no e allora quando arrivano questi no che sono perentori magari alzando un po' il vocione lei sgrana gli occhi guarda come dire proprio tu eh sì proprio io ma guarda un po' è perché la mia apertura di credito è enorme non solo per stanchezza fisica ma perché credo che mia figlia sia una bambina bella dentro prima ancora che fuori e caspita io ti faccio un'apertura di credito straordinaria non esagerare e ti metto la prova ti metto la prova tutti i santi giorni per vedere dove arrivi e a quel punto io però poi i miei no sono no e lì restano con una lacerazione del cuore che vi lascio immaginare un dolore dei sensi di colpa assolutamente inutili e injustificati chiaramente da papà non ci sono però ci sono papà nonno io queste cose le provo quindi femmina Milano è femmina e non da quando è arrivata lei da quando è arrivata lei anche di più Milano è femmina per dire qualcosa in più rispetto a quello che ha detto Stefano perché accogliente Milano è femmina è stato uno dei libri che io ho scritto a quattro mani con il collega Domenico Megali un sottotitolo che fa un po' arrabbiare le femministe tant'anni perché il sottotitolo era un po' mamma un po' puttana ma lo è perché Milano è questo come tutte le donne peraltro Milano forse più che puttana è prostituta voglio dire peraltro no no ma io questa frase che dice la mia collega l'ho sentito lì a molte donne perché è vero è vero c'è questo tipo di solidarietà femminile no ma è vero ma è un dato di fatto diverso è dalla prostituta Milano forse oggi è prostituta più le puttana perché è accogliente si apre una mamma si apre a tutti Milano si apre a tutti e altrettanto con la stessa rapidità si chiude perché dopo un po' ti caccia in malomodo è successo con gli austriaci con gli spagnoli con tanti altri a un certo punto proprio ho dovuto cacciarli in malomodo perché si erano trovati fin troppo bene Milano in maniera esagerata avevano preso possesso della città ed è una mamma perché è accogliente da questo punto di vista che se ne dica Milano ti permette di fare cose che in altre città d'Italia veramente con grande rispetto e con tutte le contraddizioni di Milano e con tutte le brutture di Milano tutte le se volete vi faccio un elenco ma tu parli con una milanese brava esatto vi faccio l'elenco lo so vi faccio l'elenco ma resta comunque forse ma sicuramente l'unica città europea di questo paese è sempre il mio modesto avviso con tutte le sue contraddizioni ce ne fossero altre due o tre magari una per zona d'Italia sarebbe meglio questa è una mia opinione è femmina per questa ragione io spero che sia femmina anche con lei che sia mamma oltre che la sua mamma perché a me personalmente ha dato tutto quello che poteva dare mi ha salvato la vita un paio di volte tra l'altro mi ha ripreso per i capelli tant'è che adesso non ci sono più però mi ha permesso di vivere sano di studiare di lavorare incontrare la moglie della mia vita a 53 anni quando io proprio l'ultima cosa che stavo pensando da singolo impendente sempre un po' tardivo un po' tanto tardivo però sia io e mia moglie insomma ci siamo sposati tardi lei dice lei dice che il nostro non è stato un colpo di fulmine ma un colpo d'alzheimer perché non c'era una ragione non c'era una ragione che uscisse dall'aspetto emozionale quindi con un minimo di razionalità che non c'è mai nell'amore ma perché eravamo due single io impendente lei un po' meno ma almeno a suo dire eh non sto a quello che lei mi racconta però siamo stati così e quindi senza impegni di nessun tipo senza altre famiglie alle spalle perché normalmente questi sono i figli del secondo giro per cui tu hai avuto i figli da giovane è successo a Stefano e l'abbiamo avuto i figli giovani figli di 26 27 30 anni poi divorziato sei ancora sul mercato tutto sommato ancora e poi ti sposi con la ragazzina che ha l'età di tua figlia che dice io figli non ne ho ma guarda e quindi si fa una figlia che però tu vivi con più distacco perché l'hai già visto questo film e continui per termine per fare il tuo lavoro essere a casa poco poco presente poco stancante mettiamola così mentre chi poi fa una scelta come leggerete nel libro molto diversa e un po' più stancante mettiamola in questo modo e quindi non c'era una ragione noi avevamo soltanto il trolley come quando siamo venuti adesso a Firenze stamattina non avevamo nessun bagaglio solo il bagaglio a mano non avevamo nessun tipo di figli quindi non c'era una ragione belli mai convissuti quindi provate a immaginare due persone e dice buona tre quanta quattro anni all'epoca vivere sotto lo stesso tetto senza avere la possibilità del maniglione antipanico della fuga e di dire va bene stiamo tre giorni da me due giorni da te come si faceva prima con le fidanzate queste semi come non c'era più per cui quando volevi sbattere la porta dice vabbè dai ci vediamo domani no e moglie da buona Roma buona lazia diceva andovai devi sempre tornare qua perché comunque la casa è una sola già senza figli figuriamoci con i figli ancora di più questo almeno è tanto per darti una risposta io mi dispiace e vi devo lasciare perché ho appuntamento medico medico per cui complimenti grazie 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 a chi è grazie ai complimenti grazie grazie a commovente grazie grazie a di cuore ciao Paolo ciao Paolo grazie a tutti grazie a tutti Stefano hai esaurito tutte le tue potenzialità nella presentazione o hai qualche precisazione da fare su quello che ha detto lui direi che il nostro hermano ha detto tutto quello che si sentiva di dire io voi sapete come la penso per me la famiglia la paternità la maternità sono il fondamento della società sono la cosa più bella del mondo e quindi io sono felice di di aver presentato questo libro di aver presentato il hermano a voi quindi questo è quello che posso chiusare diciamo in fondo a tutto il mio compito era quello di come dire scaldare l'ambiente per poi dare a a hermano la possibilità di esprimere tutto quello che lui in realtà ha già espresso molto bene in questo libro